Come ogni anno da quasi 20 anni abbiamo questo veglione per i bambini, il venerdì di carnevale. Quest'anno torniamo alla combattente alle 16.30, grazie alla collaborazione della Proloco che è la società che l'organizza. Faremo una grande festa per i bambini, l'ingresso sarà gratuito, avremo gli spettacoli, avremo l'esibizione della Dance Academy, avremo palloncinomania con i suoi allestimenti, avremo un set fotografico curato da Foto Capri, avremo dei gadget offerti dal TopTel Centro Team, il getto di dolciumi offerto dalla Proloco, quindi la grande festa per i bambini, poi sarà una bella merenda, il prezzo è sempre lo stesso, un'un gran risata all'ingresso e siete già a posto.